Ciao amici e benvenuti a un altro video di Vosho Rockwain, benvenuti a un'altra mia recensione in collaborazione e questa volta sono nuovamente in collaborazione con il negozio Resolution Shop e ringrazio enormemente il proprietario Daniele per avermi prestato questa straordinaria action figure per poterla recensire qui sul mio canale bene, adesso iniziamo questa nuova recensione in collaborazione con Resolution Shop e come avete visto oggi vi recensirò questa stupenda action figure statica di Sanji direttamente da One Piece è un'action figure appunto prodotta da Bandai e Tamashination qui c'è appunto il bollino di originalità vedete appunto subito la confezione che si presenta appunto in questa elegante scatola con questa finestrella appunto sul davanti dove appunto ci mostra questa action figure all'interno della sua confezione in basso nella confezione vediamo appunto un'immagine di questa action figure di Sanji appunto in azione che sta per lanciare uno dei suoi potentissimi calci in basso appunto leggiamo accanto il nome del personaggio appunto Sanji logo One Piece, appunto Bandai, Tamashination e logo di originalità bollino di originalità lateralmente nella confezione vediamo che appunto c'è un'altra semi finestrella trasparente dove appunto possiamo intravedere anche lateralmente l'action figure all'interno della confezione sempre nel mezzo appunto una una immagine di questa stupenda action figure di Sanji di lato scritto appunto figure zero nome del personaggio sul retro della confezione possiamo vedere appunto altre fotografie di questa stupenda action figure statica di Sanji qui appunto vediamo il volto qui appunto il piede in su altre action figure disponibili sempre statiche comprende appunto uno stand quindi una basetta d'appoggio e sotto appunto il marchio figure zero e altre scritte varie e di lato appunto infine vediamo sempre un'altra immagine di questa action figure statica di Sanji nome del personaggio e scritte varie ed ecco fuori dalla sua confezione questa stupenda action figure statica di Sanji con i suoi vari accessori appunto l'effetto di fuoco del suo calcio da montare e la sua basetta d'appoggio ma iniziamo nel vedere più da vicino i dettagli della statuetta appunto di Sanji ed ecco qui amici guardate com'è davvero preciso e ben riuscito anche il volto davvero davvero bellissimo ha lo sguardo anche laterale guardate appunto i capelli come sono ben dettagliati scolpiti e pitturati guardate anche appunto i dettagli del vestito questa giacca così scura veramente veramente ben fatta guardate appunto le gambe come sono ben fatte come vedete appunto che dal ginocchio fino al piede ha questo effetto appunto di rosso traslucido veramente un vero tocco di classe per dare appunto l'impressione appunto dei suoi potentissimi calci davvero fatto bene questo questo effetto appunto di 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 plastica traslucida e plastica appunto pitturata davvero davvero bellissimo materiale ripeto a dire sempre PVC anche nell'altra gamba vedete c'è questo bellissimo effetto di fuoco che appunto è tutto a giro del suo ginocchio appunto dal ginocchio appunto fino fino al piede anche anche appunto in quest'altra gamba c'è questo effetto traslucido appunto tra il ginocchio e il piede davvero davvero spettacolare come vedete appunto Sanji ha una mano in tasca e l'altra mano invece ce l'ha così in action in azione come vedete ha la sua mitica sigaretta in bocca vediamo più da vicino appunto questo effetto di fuoco che si trova appunto in dotazione con la confezione vediamo che è appunto un pezzo di gomma tutto traslucido con vari effetti appunto di colori diversi di sfumature vediamo che appunto inizia con questo rosso molto oscuro che poi va leggermente a schiarirsi finché qua diventa proprio chiaro e qua diventa giallo e qui appunto diventa ritorna a essere di nuovo rosso e finché qui proprio diventa quasi un rosso molto oscuro quasi nero direi devo dire molto molto ben realizzato è molto morbido appunto ma devo dire molto ben realizzato poi c'è appunto questa basetta di appoggio con appunto il nome del personaggio scritte varie giapponesi e quindi amici questa era la mia recensione di questa statuetta di Sanji prodotta appunto nel 2015 da Bandai Tamashination che misura un'altezza di circa diciamo da da piede a piede di circa 15-16 centimetri e fatemi sapere che cosa ne pensate di questa mia recensione con un messaggio iscritto con un mi piace al prossimo video e ma che cosa è che cosa ne pensate che cosa ne pensate che cosa ne pensate